Cucù, buongiorno e benvenuti a un altro Outfit of the Day prettamente autunnale. Allora, vi faccio vedere prima di tutto, prima che non mi rimentichi, qual è la mia borsa di oggi. È questa, sono venuta qui con questa borsa, che è una semplice borsa a quadrettini, si potrebbe dire anche piuttosto sportiva, però è molto comoda perché dentro ci stanno tante cose e quindi la porto volentieri. Poi vi vedete vestita quasi interamente di nero e c'è lo stesso giaccone lungo che c'era anche nell'Outfit of the Day di ieri e ci sono anche gli stessi anfibi che c'erano anche nell'Outfit of the Day di ieri e c'è anche un po' lo stesso foulard o pashmina che dir si vuole. Io non sono abituata a dire pashmina perché quando sono andata via dall'Italia questo termine non era ancora entrato nell'uso della lingua italiana e quindi io non sono veramente abituata a dirlo, non ho capito neanche bene di che cosa si tratta. Comunque un foulard penso si capisca. Mi tolgo il foulard, mi tolgo le cose a strati una alla volta e poi mi tolgo anche il giaccone di lana perché qui continua ad essere molto freddo. Mi tolgo il giaccone di lana e voi vedete che ci sono i soliti jeans neri di H&M poi c'è una cintura, una cintura con un fiocchettino che vedete qui è fatto in questa maniera un fiocchettino in... come si chiama questa? Similpelle, non lo so. È una cintura di H&M e dietro la cintura si chiude con dei bottoncini che io ho chiuso al secondo bottoncino perché al primo bottoncino essendo la cintura sopra vari strati di vestiti era un po' troppo stretta. E niente, poi c'è questo golfino sempre di H&M che ha tante perline, vedete, tante perline cucite sopra e mi piace veramente tanto, è un golfino che davvero adoro e sotto il golfino c'è un gilet, un gilet senza maniche che devo fare, me lo devo togliere mi devo togliere il golfino per farvi vedere il gilet senza maniche, non lo so e poi come faccio a rimettere tutto insieme perché vado un po' di fretta oggi e ad ogni modo provo a togliere la cintura che è quindi fatta in questa maniera, così e una volta tolta la cintura provo anche ad appoggiare la cintura da qualche parte ecco, vedete, il gilet è fatto in questa maniera, è un gilet molto molto stretto su una camicina nera, una camicina nera con il collo alto, fatto in questa maniera il collo è la cosa che mi piace più di questa camicina che ha anche le maniche leggermente a sbuffo una camicina che ho veramente da tanti anni e basta, e questo è l'outfit of the day, mamma mia, fa un freddo incredibile cerco di ricompormi l'outfit e per il momento vi saluto però è in arrivo, vi dico subito, è in arrivo il video dei favoriti del mese di agosto finalmente, quindi questo non è l'ultimo video per quanto riguarda oggi ciao, 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 mamma mia che freddo, ciao! ciao!